Ciao Stefano, hai appena rinnovato il tuo contratto con l'Inter. Quanto sei felice di prolungare la tua esperienza qui e cosa rappresenta per te? Sì, sono felicissimo di continuare questa avventura con l'Inter. Mi trovo molto bene qui, con questa grandissima squadra, con i miei compagni a Milano, con i tifosi. Quindi sono molto contento di continuare. Da quando ti sei unito alla squadra nel 2018 hai giocato e vinto tante partite importanti. Quanto ritieni di essere cambiato e migliorato? Abbiamo fatto insieme un percorso molto bello, con anche tanti trofei e tanti successi insieme. Spero di continuare. Stefano, sei uno dei veterani dello spogliatoio. Come ti senti riguardo a ricominciare questa stagione? Quali emozioni e sensazioni provi rispetto agli anni passati? Sì, volevamo continuare a crescere, a migliorare e a vincere ovviamente. Penso che quest'anno sarà un anno molto bello per noi. È stata una grande stagione per la squadra, l'obiettivo naturalmente è cercare di replicare, se non di far meglio. Sì, sicuramente vogliamo fare meglio, soprattutto in campionato, che già l'abbiamo vinto due anni fa, ma la vogliamo rivincere.